Il motivo di questa protesta è perché per tutte le anomalie che noi abbiamo segnalato sulla sicurezza è una protesta che sta facendo tutta Italia, davanti a tutte le questure ci sono i nostri rappresentanti del SAP che in pratica chiedono l'intervento del Presidente della Repubblica quale garante della Costituzione al fine di poter esercitare il nostro ruolo sindacale.